Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Quali sono le criptovalute che battono Bitcoin? Un caso raro, una perla rara, una mucca viola, sono queste criptovalute che da un po' di tempo, un annetto circa, sono più forti di Bitcoin, hanno una forza relativa superiore. Esistono questi investimenti e oggi andiamo a vedere come si comportano, quali sono le mie top 5 criptovalute che battono Bitcoin negli ultimi periodi e qual è la struttura dell'analisi tecnica e come detenerle in portafoglio, come farci trading. Insomma ragazzi andiamo a fare le nostre solite analisi per capire fino a quando queste criptovalute dimostreranno ancora forza su Bitcoin quindi fino a quando sarà bene magari tenerle in portafoglio perché potrebbero rappresentare un investimento alternativo a Bitcoin da magari miscelare insieme a Bitcoin stesso se lo detenete in hold perché magari volete cambiare, volete avere uno spunto leggermente più profittevole, una spinta maggiore utilizzando delle altcoin che sono più piccoline, magari anche più volatili, però hanno un trend positivo nei confronti di Bitcoin. Oggi parliamo di questo, nel video ho preparato già la mia lista dietro le mie spalle e tra un po' andremo subito a vederla. Prima di fare questa cosa ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un pollicione. Fatemi sapere poi tra le altre cose se avete sotto, diciamo mano, una serie di criptovalute che magari non sono parte di queste mie top 5 perché le metto anche nel mio paniere da watch list, perché non ne ho messo alcune ragazzi, perché sono troppo piccole. Ricordate spesso le altcoin piccole per grandi investimenti non hanno nessun valore ragazzi, perché se non hanno una grande capitalizzazione attenzione a utilizzarle, sono molto rischiose. Quindi ho deciso di mediare un po' e di tenere conto solo di quelle criptovalute che sono un po' più importanti, un po' più grosse, con progetti anche interessanti dietro le spalle e attività di business dietro le spalle. Quindi ragazzi, se vi viene in mente qualcosina, però scrivetemela anche nei commenti. Bene, ci spostiamo sui grafici e iniziamo ad analizzare la prima cripto. Allora ragazzi, dietro la mia faccia, la cripto iniziale, la prima, le ho messe in ordine di trend ragazzi. So che è una cosa strana, però in effetti le ho messe in ordine di trend. Allora questa ragazzi è CRO, la criptovaluta di Crypto.com, il famoso wallet legato alla Monaco Card. Ne parleremo ragazzi di questo wallet. Il wallet al momento per il mercato italiano è ancora un po' complesso, visto che le Monaco ancora non sono arrivate. Però diciamo sicuramente il mercato delle card è essenzialmente un mercato molto importante. E questo è un progetto stravalido ragazzi, ormai lo sappiamo tutti quanti. Sto valutando una serie di cose, poi volevo anche farvi vedere alcune possibilità. Ne parleremo con calma di questo tipo di progetto. Ora però facciamo l'analisi di questa criptovaluta contro Bitcoin. Ho preso i prezzi di Wobby ragazzi, uno dei miei exchange dove viene quotata la CRO contro Bitcoin. Allora intanto iniziate a capire benissimo come queste candele vi dimostrano. Adesso sono passato dalla quickly alla time frame daily. Vi dimostrano come ragazzi la volatilità di progetti comunque ancora non necessariamente grandi come questo qui sia eccessiva ragazzi. Guardate che volatilità in una sola giornata incredibile. Quindi questo vi fa anche capire come è pericoloso magari l'utilizzo di un intero portafoglio magari indirizzato tutto su Bitcoin, su criptovalute che non siano Bitcoin ragazzi. Quindi state attenti quando fate queste cose ricordatevi sempre mediare e proteggersi dai rischi è fondamentale in questo caso. Però dal dicembre del 2019 da questo punto questa criptovaluta ragazzi ha iniziato un trend molto positivo nei confronti di Bitcoin. E considerando che Bitcoin è salito tantissimo anche nella fase fino a marzo, diciamo poi a marzo c'è stato il crash, è insomma significativo anche come questa criptovaluta abbia maggiore forza relativa rispetto a Bitcoin. Questa forza relativa ragazzi ancora viene mantenuta. Se guardiamo le medie in questo momento ci rendiamo conto che una variazione anche nel breve periodo di questa criptovaluta intorno a questi valori non modificherebbe il trend di medio-lungo periodo che in questo momento nei confronti di Bitcoin è positivo. Qual è il livello di prezzo che dovete tenere a mente e dove questa criptovaluta perderà il suo appeal nei confronti di Bitcoin? al di sotto di questi livelli, di questa zona ragazzi, lontanissimo lo so in questo momento però parliamo di altcoin, di criptovalute stravolatili ragazzi quindi non mi mettete lì il stop loss e il prezzo vicinissimo perché ve lo state inventando quindi non fate queste cose. Ok ragazzi date al mercato quello che il mercato vuole, non forzatelo a stare nei vostri parametri perché non è così che si fa il trading, non è così che si gestiscono gli investimenti, ok? Questo è un livello importantissimo, 58.9, 0 esclusi ragazzi, quindi anche 60 va bene, 600 0 esclusi ed è importantissimo da valutare nel medio-lungo periodo. Questa CRO può stare in un portafoglio diversificato che abbia come sottostante anche Bitcoin perché in questo momento ha una maggiore forza relativa e si è visto anche nell'ultima fase di maggio quando Bitcoin ha un po' accelerato, poi è rimasto un po' in barra di congestione, CRO continua a dare buoni risultati. Il perché non è solo legato all'analisi tecnica ma è legato alla bontà del progetto ma oggi non ne parliamo ragazzi, ne parleremo in un video apposito. Passiamo all'altra altcoin, ragazzi questa ha bisogno di poche presentazioni, Chainlink, quindi il link moltissimi di voi la seguono già da un sacco di tempo, vi metto anche il time frame weekly per farvi vedere che questa criptovaluta è in trend positivo rispetto a Bitcoin da quasi due anni, settembre 2008, quindi è una delle poche, forse l'unica criptovaluta che ancora adesso ha un trend positivo contro Bitcoin ragazzi, guardate qui, è molto bello intanto vedere che esistono queste possibilità è interessantissimo anche il suo atteggiamento, ora ve lo dirò perché sembra un atteggiamento particolare che si chiama Min Reverting per chi è trader ragazzi ve lo spiego subito, cioè questa cripto in pratica si sale e poi fa un atteggiamento molto importante, quando raggiunge un picco ritorna sulle sue medie di oscillazione nei confronti di Bitcoin, lo fa praticamente da due anni, vedete cosa fa ragazzi, quindi fa picchi e poi ritorni sulla propria media che in questo caso vedete le due medie disegnate, questo è un grafico di natura settimanale, mentre da un punto di vista daily non è così, da un punto di vista daily le oscillazioni sono talmente sviluppate, talmente ampie ragazzi che Chainlink fa praticamente dei trend molto lunghi ribassisti nei confronti di Bitcoin, vedete per esempio gli ultimi, guardiamo gli ultimi, sono durati anche tanto, vedete da aprile 2020 ha ripreso solo qui a maggio, quindi un mese di trend ribassista, la stessa cosa qui ragazzi da marzo 2020 ha ripreso ad aprile, quindi un mese di trend ribassista, fa questi cicli enormi, però siccome qui non stiamo facendo trading su queste crypto ragazzi, questo è un video che vi parla delle crypto da detenere in portafoglio in hold insieme a Bitcoin, che hanno maggiore forza relativa rispetto a Bitcoin, preferisco valutarla da un punto di vista di time frame weekly, questa crypto che è estremamente volatile, e questo tipo di view, di analisi ci indica questo punto come un altro punto di buy della criptovaluta link, ragazzi poi se dovesse invertire dove sono i primi segnali di cedimento, anche in questo caso il segnale enorme di cedimento che dovete tenere sotto occhio è questo livello, 0 esclusi, 32 e 5, ok ragazzi? Mi raccomando, questo è un livello essenziale, fondamentale, rotto questo tipo di livello, Chainlink perde la forza relativa finora avuta nei confronti di Bitcoin da due anni, quindi andrebbe messo in stand by. Passiamo all'altra criptovaluta, la terza sul podio, poi andiamo alle ultime due che sono un po' particolari, poi insomma faremo una serie di giramenti, questo è Tezos, ragazzi, Tezos ho poco storico, sono sincero questo è il più lungo che ho trovato su Bitfinex, ottobre 2018, ha fatto una barra di congestione, questo è time frame weekly, poi ha invertito, quindi ragazzi tra le tre è quella che mi piace di meno, anche questa però sta avendo un atteggiamento stile link, vedete che ritorna sulle sue medie, quindi un atteggiamento reverting, si chiama così, sulle medie, a questo punto potremmo indicare questo punto qui come un buy, per questa criptovaluta, criptovaluta in old rispetto a Bitcoin, dove anche su Tezos, il punto di inversione di forza relativa nei confronti di Bitcoin, all'incirca sotto questo livello, che è esclusi 0,23,4 ragazzi, stampatevelo in testa ancora una volta, 23,4 sotto questo livello, Tezos stand by all'interno di un portafoglio, quindi in questo momento abbiamo visto queste tre criptovalute, passiamo alle ultime due che sono capitalizzate, importanti e sono la prima Binance, allora ragazzi Binance è complicato, è complicato, perché Binance ha avuto un trend rialzista su Bitcoin, vedete dal 2017 fino al giugno 2019, due anni di trend rialzista, e questo vi fa anche capire come criptovalute, come link ragazzi, potrebbero anche avere finito la loro spinta rialzista, quindi ricordatevi che se anche le detenete il portafoglio, e ci fate holding, ed è giusto fare holding, perché in questo momento i mercati ci dicono queste informazioni, ricordatevi che le cose possono cambiare, così come sono cambiate su Binance, quando era qui tutti dicevano Binance arriva ai 100 dollari famosi, insomma sale e basta, non è così ragazzi, i mercati cambiano, bisogna essere trader, bisogna essere formati per capire cosa fanno, e starci un po' dietro, va bene? Poi nel lunghissimo periodo, 10 anni, 15 anni, come diceva Keynes, sapete che diceva Keynes ragazzi nel lunghissimo periodo, siamo tutti morti, vabbè facciamo corn anche se questo è impossibile da evitare, vabbè allora ragazzi, Binance nel momento in cui dovesse invertire il suo trend su Bitcoin, potrebbe dare soddisfazioni, mentre le altre sono criptovalute che sono già in trend positivo nei confronti Bitcoin, Binance non è in trend positivo, esce da un trend negativo, vedete qui è un trend negativo per quanto riguarda Binance, ma sta uscendo da questo trend negativo, perché sta girando ragazzi, e mi piace tantissimo questa configurazione, ormai lo sapete, è una configurazione che adoro, perché ci permette di salire sul carro dei vincitori, prima che i vincitori diventino tali ragazzi, perché molti poi fanno i video, avete visto, e poi si sale qui sui massimi, non è questo, il trader non fa questo ragazzi, il trader cerca occasioni di profitto, e questa potrebbe essere un'occasione di profitto, ora no, assolutamente, perché Binance deve andare al di sopra di questi livelli qui, 0, vabbè esclusi gli 0, 24 ragazzi, questo è il livello da tenere a mente per Binance, un break di questo livello, è un ottimo punto di ingresso, poi bisognerà vedere se effettivamente questa coin darà risultati, però è un punto di ingresso che possiamo mettere nel nostro portafoglio ragazzi, ok, ricordatevi che io parlo sempre prima, insomma ragazzi, non dopo quello che avviene, spesso è capitato, adesso vi farò anche vedere magari un video, quello che ho detto verso marzo, dopo il crash del covid sulle mie tre stocks americane che avevo indicato, ragazzi hanno fatto faville, ma l'hanno fatto anche durante il crash, quindi attenzione, vi farò vedere anche in un video, perché è molto importante ragionare in questo modo, ultima, e l'ho messa perché ragazzi, va messa questa cripto, è in giallino, non è una delle mie cripto preferite contro bitcoin, ma c'è anche lei, Ethereum ragazzi, Ethereum contro bitcoin, perché? Allora, non ha un trend rialzista, assolutamente di medio e lungo periodo, ce l'ha ribassista, e su questo c'è poco da dire ragazzi, perché vedete, è essenzialmente il ribasso su bitcoin da due anni, però c'è anche da dire una cosa, ancora una volta Ethereum ragazzi, sta dimostrando di aver toccato il fondo, poi che questa cosa sia vero o meno, ci sono tante riflessioni da fare sul mercato di cripto, però i grafici, i prezzi ci dicono questo, la press action ragazzi ci indica questo, vedete anche qui, nei confronti di bitcoin, sembra aver toccato il fondo, sta facendo la stessa figurazione di Binance, in particolar modo, mi piacciono questi due minimi, e il fatto che Ethereum è riuscita a non trovarsi più, in questa situazione, e sta disegnando tra l'altro anche, una figura abbastanza simpatica, che è questo triangolino, vedete ragazzi, che può essere utilizzato, per un eventuale ingresso sul breakout, sempre per detenerla come holding, nel caso in cui si volesse detenere in hold, una posizione su un portafoglio di cripto, quindi un breakout su Ethereum, vedete, fatto qui, che in questo momento è, scusi, 0, è intorno a 25, barra, 26, ok, un breakout del genere, con una conferma, se lo fa, poi sarebbe ancora meglio, qui ragazzi, adesso vi dico anche, questo prezzo, così, abbiamo un prezzo definito, quindi sopra questi massimi, che è, scusi, 0,29, nel momento in cui, Ethereum fa una cosa del genere, inverte, vedete, il trend, di medio periodo, breve, medio periodo, su Bitcoin, quindi, perché no, la infiliamo, come abbiamo già, indicato su Binance, all'interno del nostro portafoglio, delle criptovalute, in possibile, diciamo, stato di forza relativa, su Bitcoin, bene ragazzi, allora, vi ho detto quello che penso, vi ho mostrato le mie top 5, CRO, Link, Tezos, Binance, ed Ethereum, in ultima analisi, sono le criptovalute, da tenere d'occhio, e anche monitorare, in hold, contro Bitcoin, fatemi sapere, quello che pensate voi, poi andremo ad analizzare, magari ce l'erò come vi ho spiegato, perché è interessante che il progetto, ma ditemi quello che pensate, fatemi sapere le vostre idee, e come sempre ricordatevi, trend is your friend, quindi non mi dite, criptovalute, che il progetto è buono, e poi hanno un trend ribassista, dalla loro nascita, su Bitcoin, perché non è quello che fa, il trader, il trader cerca, possibili, possibilità di profitto, ok, quindi trend in inversione, o già rialzisti, non dimenticatelo, ciao a tutti, e ci vediamo nel prossimo video.